Questo soggetto è sottoposto a vigilanza pubblica ed è esercitata questa vigilanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e limitatamente alle attività del Pra e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della Giustizia e della Autorità Giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti. Per i profili di competenze, il Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura amministrativa delle Autorità di Governo Competenti Penderia di Sport, esercita una serie di funzioni di vigilanza tra le quali non ci sono quelle alle quali lei fa riferimento. In ogni caso, in questo contesto, l'attuale Presidente dell'Automobile Club ricopre la relativa carica a seguito delle ordinarie procedure elettive svoltosi presso la sede dello stesso, riunite in Consiglio Direttivo. Venendo infine al caso del Presidente di Sport e Salute, ricordo agli interroganti che, come è noto, questa è una società partecipata interamente dal Ministero delle Economie e delle Finanze e che, in quanto tale, è soggetta alla disciplina del testo unico delle partecipate di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Venendo infine al caso del Presidente di Sport e Salute, quindi, ricordo agli interroganti che, come è noto, questa è una società, mi scuso, dunque, alle previsioni normative dettate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ovvero le norme anticorruzione introdotte dal Decreto Legislativo 39 del 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati di controllo pubblico, rilevano, finisco, Presidente, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che i componenti degli organi amministrativi di controllo delle società a controllo pubblico devono possedere, così come previsti dall'articolo 11,1 del testo unico delle società partecipate pubbliche, che regola in maniera organica la disciplina delle partecipazioni societarie detenute dall'amministrazione pubblica. Insomma, ribadisco dunque agli onorevoli interroganti il rispetto di ognuna delle disposizioni di leggi in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, così come dei requisiti di leggi previsti per le nomine dei componenti degli organi di vertice di società pubbliche, come certificato dal parere delle commissioni parlamentari che si sono espresse a riguardo. Ultima considerazione. Io credo che chi ha un cognome non debba certamente avere dei privilegi, però non vorrei arrivare al punto che avendo un cognome si debba avere addirittura un danno. Questo è un presupposto che deve essere parimenti salvaguardato.